Continuano le ricerche di James David Lovry, il 46enne statunitense, scomparso misteriosamente dalla propria abitazione nel pomeriggio di martedì 6 agosto, di cui si sono perse le tracce. È stata la sua compagna, di rientro da una vacanza in Sardegna, a dare l'allarme dopo che ha trovato la porta di casa aperta e tracce di sangue sul pavimento, senza aver risposta successivamente dalle telefonate effettuate a vuoto verso il cellulare di David. Il cuore dell'uomo, ex dipendente civile della base USAF di Aviano, è stato ritrovato parcheggiato all'altezza della piscina comunale di Cordenons, con all'interno alcuni indumenti appartenenti a lui. Nel frattempo la prefettura di Pordenone, che coordina la macchina dei soccorsi, ha disposto alla costituzione del campo base dell'unità di crisi presso la sede della protezione civile di Cordenons. Al lavoro i vigili del fuoco e volontari della protezione civile, giunti in supporto dagli altri territori comunali del Friuli occidentale. Battuta palmo a palmo tutta l'area dell'Interland pordenonese, in particolare i corsi d'acqua come il fiume Meduna, nel tratto che da Cordenons porta verso la sua foce, il noncello e il canale artificiale Amman. Al momento però non ci sono buone notizie sul ritrovamento di Lovri in vita sano e salvo. Le ricerche riprenderanno con lo spuntare dell'alba.